Claudia, ma perché mi guardi in questa maniera? Che c'è, Claudia? Vittorio, qua sei verde! Io verde? No, io sono Vittorio! Guardati! Ho sete! Devo bere un bel bicchiere d'acqua! Prego tu l'acqua, non voglio io! Gentilmente, Claudia, potresti andarmi a prendere un bicchiere d'acqua? Assolutamente no! Ma perché? Perché? Oh, io ti faccio sempre tanti favori e ti porto i biscotti, ti porto i bireti, mangi un sacco di cose e io voglio che ti chiedo... Ma è tua mamma! E che c'entra? Lo fa mia mamma, lo faccio io, la stessa cosa, comunque ti offro da mangiare. E tu adesso devi portarmi un bicchiere d'acqua perché ho sete, io ho le gambe stanche. No! Uffa però! Ma perché devo fare sempre tutte quante le cose da solo? Grazie mille, Claudia, sei veramente un'amica! Qua c'è dell'acqua? Che c'è? Una chiave qua dentro? Ma che ci fa una chiave in un bicchiere? C'è dell'acqua qua dentro? Uffa! Ma che schifo c'è qua dentro? Cioè, che è questo giochettino? Di chi è questo gioco? È il mio! Ma che ci fa questo coso nel bicchiere? Adesso mi finiva nella gola questo coso... Ti tieni! È tutto sbavato di Vittorio. Uffa! Saliva di Vittorio! Saliva di Vittorio! No, no, dai, salva un vento! 3, 2, 1... Via! No, no, Claudia, non me lo lanciare! Claudia, no! Claudia, non me lo lanciare! No, no, Claudia, non lanciarlo! Non lanciarlo, Claudia! No! Va bene, cerchiamo dell'acqua. Ci sarà dell'acqua della borraccia della Vittorio Family! Nella borraccia della Vittorio Family sicuramente ci sarà dell'acqua. Vediamo un po'. Ecco. Ho fatto svitati. Oh, ecco va. Alla salute! La svuota da ieri! Come le svuota da ieri? Non è vero, c'è sempre dell'acqua qui nella borraccia. Claudia! Claudia, ma hai svuotato tutti quanti i picchieri! Perfetto, adesso il Grinch ha rubato l'albero di Natale, ha rubato i regali, ci ha rinchiusi qua in camera da tutte le parti e non riusciamo nemmeno a bere un po' d'acqua. Perché? Perché Claudia ha bevuto tutto quanto lei! Il piede, il piede! Berrò l'acqua dal tuo piede! Il mio sudore! È schifo! Preferisco stare senza bere piuttosto che bere il sudore nei piedi di Claudia. Magari se cerchiamo attentamente riusciamo a trovare un bel bicchiere d'acqua. Qual c'è dell'acqua? Ho trovato dell'acqua! Una vera acqua. Questa qui sarà sicuramente dell'acqua fresca. Guarda, c'è scritto Grinch. È il bicchiere del Grinch! Questo qui... Ma bene, ma c'è sempre dell'acqua! Lo so, infatti... Qua dentro c'è dell'acqua. Che dici? Posso bere da qui? Forse è ok. Secondo te è una buona idea bere dal bicchiere del Grinch? Sì, sì. Non so perché, ma qualcosa mi dice che forse non è una buona idea. Vitto Family, voi cosa dite? Però sapete come io ho sete e berrei qualsiasi cosa tranne il sudore dei piedi di Claudia. Quello non lo berrei mai. Però che schifo! Qua c'è la saliva del Grinch! Magari c'è il suo virus! Però siete! Ora basta! No! No, aspetta! Ci ho ripensato, ci ho ripensato! No, no, no! No, no! Però era di setante. Adesso non ho più sete. Mi sento meglio ora! Claudia, la faccia tua! Ho bevuto l'acqua! E tu no! E tu no! Sì, ma io non ho sete. Prima o poi ti verrà sete. Perché? È perché a tutti quanti viene sete. Anche a te. Ma quando mangi! E quando dormi, no? Claudia, io inizio a sentirmi un pochettino. strano. Perché sto iniziando a puzzare di cipolla? Ma io prima non puzzavo così tanto. Claudia, eh... Claudia, posso dirti una cosa? È solo acqua. Voi a vomitare. Eh, ma come faccio a vomitare se la porta è chiusa? Vittorio! Che? Cosa ti succede? Cosa? Claudia, ma perché mi guardi in questa maniera? Che c'è, Claudia? Non sei verde! Io verde? No, io sono Vittorio! Guardati! Ma verde? Verde! La mia maglietta è rossa! Ambi che è verde! Questa è la maglia rossa e questa è la maglia della Vittorio! Il naso! Eh, ho un naso! Perché tu non ce l'hai il naso, Claudia? Che c'è? Questa è cercata di dirmi! Che c'è? Verde! Il bicchiere era verde! Sì! Il bicchiere che mi hai fatto bere! Che c'è? Che stai facendo? Aspetta! Che stai facendo, Claudia? Claudia, che fai? Ma... Aspetta! Eh, la fotocamera! Ecco! Fai le foto? Aspetta! Che c'è? Mi stai facendo una foto? Ecco fatto! Che c'è? Guarda! Cosa? Ma... Ma... Ma quello è il mio naso! È verde! Esatto, Vittorio! Che cosa? Un naso verde visto femmini! Che mi stai dicendo? No! Non voglio avere il naso verde alieno! Perché un naso verde? Non lo so! Sarà una reazione allergica a qualcosa? O magari mi sono trasformato in una rana! Ma se... Ma se prima invece non hai fatto nulla! Non... Non eri allergica a nulla! Eh... E quindi com'è possibile? Perché sto diventando verde? Non lo so! E come mai? Che dice il gattino? Dice... Che forse ti stai trasformando in un Grinch! In un Grinch? Sì! E perché mi sono... Che... Che si... Ma che significa? Scusami! Solo perché ho il naso verde! Ma è un gattino! Gattino è un po' scemino secondo me! Gattino! Gattino! Secondo... Sì, sì! E però ti stai trasformando in un Grinch! Scusa gattino! Non volevo! Tieni! Ma che stai dicendo? Che significa che mi stai trasformando in un Grinch? Eh... Ecco, mi prude! Ah, sono meglio! Ok, Claudia! Perché mi guardi così? Gattino è un gattino che tu ti stai trattando proprio come il Grinch! E fai tutto come il Grinch! Insomma, sei strano e stai facendo tutto come il Grinch! Ma quando vai? Io e il Grinch non abbiamo proprio niente in comune! A parte il fatto che ci scaccoliamo! Ti devo fare una magia? No! Non fare nessuna magia! Perché tu peggiori solo le cose con quella pacchetta magica! Dammi quella pacchetta! No! Dammi la pacchetta! Fermo! No! Sono fermo! Devo mangiare un topo! Devo mangiare i topi! Topi, 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 topi! Cosa stai facendo? Io stavo soltanto, ecco, controllando se questo topo era pulito! E quindi lo stavo lavando con la mia saliva! Che c'è, Claudia? Vuoi assaggiare anche tu? No, grazie! Un due e tre stella, vuoi giocare? Sì, se ti avvicini, ti faccio l'incantesimo! Cioè, se perdi, ti faccio l'incantesimo! Ok? Cerchiamo su internet che significa naso verde! Allora, magari sono malato! Sono malato e devo cercare la malattia! Vediamo un po' su internet cosa esce! Allora, naso! Naso verde Vediamo un po' con naso verde che cosa è Naso verde, naso verde, naso verde Allora, c'è la medicina per il naso verde E uno... Tu devi prendere quella medicina! La medicina, dici? Qua sta scritto Naso verde e alito di cipolla È proprio quello che succede a me Sì, sta scritto che... Cosa? Questi qua sono tutti quanti sintomi della grincite! Sono i sintomi della grincite! Quindi vuol dire che il grincite mi è infettato col bicchiere! Forse c'è una medicina, aspetta! Guarda che adesso io... Claudio, che cosa mi hai fatto? Maledizione, sto peggiorando! Guarda la mia mano! Non lo so! Sto diventando il grincite! Quante siamo? Lo so! No, no, no Claudia, stai ferma! Tu non mi dai più nessuna mano! Guarda che cosa hai fatto! Allora, ho un'idea! Hai un'idea? Allora, comportati da grincite E diventerai un vero e proprio grincite! No, ho sbagliato! Allora, comportati da grincite E diventerai umano! Cosa? Fidati! Ma non ha senso! Ma certo! Volete diventare anche voi dei veri e propri membri della VittoFamily? Dovete avere assolutamente le magliette ufficiali! Per avere la maglietta ufficiale della VittoFamily con l'autografo di Vittorio Ovvero il mio Basta andare su vittorioloffredo.it E la maglietta ufficiale arriverà dritta dritta a casa vostra E diventerete dei veri e propri membri della VittoFamily! VittorioLoffredo.it Vi aspetto lì! Ciao!